eccola l'oasi della convenienza maxi store deco dove trovi tutto in un unico posto non solo risparmi denaro ma anche tempo prodotti esclusivi e di qualità reparti fornitissimi idee innovazione sicurezza puoi fermarti per fare colazione oppure a pranzo con uno spuntino veloce maxi store deco ha pensato anche agli animali domestici con il negozio ioka maxi store deco davvero una bella realtà angelo ah scusa mi entriamo ho fatto già allora torniamo stasera mi porti alla braceria